Questa doveva essere la seconda parte dedicata alle trasformazioni 3D, però ho visto che troppe proprietà ancora non sono supportate o lo sono in modo diverso dei vari browser, per cui salto e passo alla parte dedicata alle animazioni. Ciò che state vedendo non è frutto di codici javascript o jQuery, ma semplicemente di regole di stile applicate agli elementi, ed è una cosa discreta, abbastanza di impatto. O meglio, lo sarebbe certamente nelle capaci mani di un grafico, cosa che io non sono. Beh, una spruzzatina di javascript c'è, o meglio jQuery, semplicemente però per chiamare la funzione che può mettere in pausa o far ripartire l'animazione. Ed il codice della funzione ovviamente va a modificare, in modo, vedrete, assai semplice, una delle proprietà legate proprio all'animazione degli oggetti con i CSS3. E' creata allora una nuova pagina, indicata come al solito l'utilizzo dalla libreria jQuery, e vi chiedo per un momento un po' di tralasciare la parte style, perché prima vorrei andare a vedere come impostare il body. E' abbastanza simile a quella dell'altra volta. Io in effetti ho fatto una copia di quella, e poi ho tolto le parti in più, e modificando il resto. Abbiamo un primo div con id div 6x di sinistra, che contiene solo la scritta 3d, e poi quello sulla destra, che nell'animazione si sposta in diagonale verso il basso, con dentro il cagnolino. div dx è il suo id, e questo, come l'altra volta, è posizionato in modo relative. E contiene appunto l'immagine di questo cagnolino, o di quello che volete voi. Sotto questo button id anime 01, e al click richiama lo script pausa riparti. E' come un interruttore. Se l'animazione stava andando, la stoppa, e se era ferma, la fa ripartire. Ok, poi il bottone è posizionato proprio come l'altra volta. A questo punto possiamo ritornare indietro al blocco style, ma partiamo da queste regole, quelle più tranquille, per poi passare all'animazione vera e propria. Dunque, id, come nella volta scorsa, hanno la stessa dimensione, hanno il background quando ha un senso, come la scritta gialla, font size 100, float left. Ok, questo qui è il meno. Ecco le regole che cominciano a interessarci, invece, per l'animazione. Come per il background, o i bordi con border, abbiamo la doppia possibilità di specificare separatamente i valori per le proprietà legate all'animazione, oppure usare una forma short, che è questa. notate come spesso accade per il CSS3, dove le caratteristiche non sono ancora entrate a far parte al 100% negli standard accettati da tutti i browser, sia necessario mettere davanti il prefisso, che nel caso di browser come Mozilla, è appunto trattino mozza trattino. Dicevo, ho la forma short, dove posso dire l'identificatore dell'animazione, questo identificatore richiama poi le regole che andremo a commentare qua sopra, tra poco, la durata che deve avere l'animazione e la ripetizione, tot volte oppure infinite, cioè vai avanti l'infinito a ripetere. separatamente avrei dovuto invece scrivere mods animation trattino name, ciclo colore, poi punte virgola, poi mods animation duration 3s, mods animation iteration count infinite, e scrivo qui. Ecco, avrei quindi potuto scrivere separatamente queste tre righe. Beh, insomma, io personalmente preferisco la forma short, però quando c'è ambiguità, come dovrei specificare anche un ritardo nella partenza dell'animazione, allora diventa più chiaro probabilmente utilizzare la forma separata con animation delay. delay, con la quale potremmo dire, anzi facciamolo e vediamo l'effetto, di ritardare la partenza dell'animazione, attenzione però soltanto dal div, quello con la scritta 3D, di ancora 3 secondi. vediamo qua. Ricarico la pagina, visto che questo rimane fermo, e soltanto alla seconda iterazione comincia anche l'animazione del primo elemento. Rivediamolo. È giallo, rimane giallo per 3 secondi, e cioè quando riparte la seconda volta anche il cagnolino, parte anche l'animazione sul colore. Ora dobbiamo spiegare cosa corrisponde ciclo colore. Lo si fa con una regola un po' particolare, un po' speciale, che è introdotta dalla chiocciola, poi dal prefisso, e dalla regola keyframes. I frame sono quelli, appunto, i quadri, i fotogrammi di un'animazione. A seguire l'identificatore che lega questa regola con l'elemento sotto, e uno dei modi in cui possiamo specificare l'animazione è from, cioè parti da un certo valore di proprietà, per arrivare ad un altro valore della stessa proprietà. In questo caso il colore dello sfondo. Poi, a seconda del tempo che abbiamo impostato per l'esecuzione dell'animazione, provvederà il browser in automatico a sfumare, a ciclare, a far passare il valore dal primo, da quello di partenza, a quello finale. E non siamo limitati a un solo particolare. Nell'animazione del secondo elemento, del div di destra, quello con il cagnolino, infatti, applico in contemporanea uno spostamento left da 0 a 500, ma anche top da 0 a 500. Ecco perché va in diagonale, e non soltanto da sinistra a destra. Guardate, infatti, cosa succede, cancellando top. Riprendiamo. Vabbè, insomma, nulla che ci sconvolga. È proprio quello che ci si aspettava, immagino. Come accennavo prima, non siamo obbligati a far ripetere all'infinito l'animazione, ma potremmo decidere, non so, due volte e poi basta. Quindi modifico l'animazione per il cagnolino, metto 2, questo valore, se non ci sono ambiguità, dovrebbe essere, appunto, interpretato come il numero di iterazioni. Vediamo. Uno, una, due, e poi fermo lì. Due volte questa, questa rimane all'infinito. Rimetto infinito per provare un'altra cosetta. Infini, così. E diminuisco a un secondo e mezzo per rendere più evidente quello che sto per mostrarvi. Allora, normalmente, vedete, ricomincia sempre dall'alto a sinistra e va sempre verso il basso a destra. Posso anche decidere però io la direzione se alternarla con alternate. salvo, vediamo la differenza. Vedete che adesso cambia. Pausa. interessante è anche la possibilità di regolare il ritmo dell'animazione. Ora conviene riportare a 3 secondi perché se il tempo è troppo poco è difficile cogliere certe sfumature. animazione parte non si capisce meglio con il cagnolino aspettate che riporto tolgo alternate ricarico parte lenta accelera un pochino poi rallenta questa è la modalità standard vediamo le altre possibilità ecco ve l'ho scritta separatamente quella di prima mi sono dimenticato ma è mode animation direction quella che permette di mettere normal o alternate direction direction questa è la timing function linear vuol dire regolare vuol dire non partire lentamente e poi accelerare ma un ritmo costante cioè questo ed è evidente dicevo prima che il valore standard è quello che fa partire piano un po' accelera poi rallenta dopo aver raggiunto una velocità di crociera appena prima di fermarsi ease quindi questo è il valore che viene preso se non si mette nulla possiamo però decidere che sia lenta solo a partenza con ease in oppure soltanto la terminazione quando si ferma con ease out proviamo con ease in si non è facilissimo coglierlo però c'è una piccola accelerazione cambiamo in out dovrebbe partire con velocità costante e rallentare verso la fine ok poi ci sarebbe anche la possibilità di specificarlo addirittura secondo uno schema che richiama le curve di Bézé ma insomma chi vuole a questo punto può andare un attimino a vedere qualche guida online più dettagliata adesso io non voglio proprio esagerare commento ora la prima regola perché voglio sostituirla fino ad ora abbiamo lasciato la gestione dall'inizio alla fine dell'animazione al browser al limite modulandola con timing function ma abbiamo la possibilità di prenderci il controllo esatto e decidere che al tot per cento quando parte deve dare un certo valore a una proprietà poi al cinque per cento deve cambiare quest'altra proprietà e così via fino al cento per cento ed ecco l'ho chiamata sempre ciclo colore dico che alla partenza c'è lo zero per cento dell'animazione tra parentesi graffe non dimenticatele sfondo rosso poi al venti per cento dell'animazione deve essere in qualche modo transitato al rosso chiaro al 60 per cento al blu chiaro all'ottanta per cento al verde chiaro e poi brutalmente al cento per cento deve passare al nero mi è caduto l'occhio sul delay che forse questo punto tolgo per non vediamo un po' mi piacerebbe commentare però così quindi ho commentato poi ho messo qui la parentesi graffa e adesso proviamo sì direi che ci siamo benissimo e anche con questa nuova tecnica ho la possibilità di specificare qua più di un attributo che cambia provate voi come esercizio io invece termino la lezione spiegandovi il bottone che mette in pausa e fa ripartire siamo qui nel button on click pausa riparti e questa è la funzione abbastanza snella come potete vedere dunque intanto per non riutilizzare nell'if l'avrei potuto fare ma per rendere un attimino più leggibile il codice vado a recuperare qual è lo stato attuale dell'animazione essa si trova esso lo stato nella proprietà animation play state all'inizio è indefinita perché ovviamente non ho dato un valore di partenza comunque quando l'animazione parte in automatico assume il valore running cioè sto funzionando sono in esecuzione quindi dopo aver catturato il valore di quella proprietà usando questo semplice comando djquery se siete proprio a secco djquery e non avete la voglia male di andare a guardarvi la playlist su questa libreria diciamo che qui sto facendo la stessa cosa che si farebbe con il get element by id e andando poi a modificare secondo la nomenclatura del DOM e di javascript la proprietà appunto mods animation play state se lo stato attuale è running allora riutilizzo la stessa tecnica però questa volta fornisco un secondo parametro al metodo CSS per settare a post cioè vai in pausa quindi se eri running se eri in esecuzione fermati e lo comando sia al div di sinistra che a quello di destra quindi sia la scritta che all'immagine altrimenti vuol dire che eri in stato di pause fermo e allora ti faccio riprendere questa volta vado a impostare in animation play state il valore running e chiudo qui la lezione quindi oggi avete imparato voi grafici che non avete voglia di imparare la programmazione che avete la possibilità di ottenere sulla vostra pagina delle simpatiche animazioni senza imparare una riga di javascript non male direi di javascript di javascript